Nel centro cittadino la bicicletta potrebbe essere una soluzione per le caratteristiche, ma in generale la soluzione potrebbe essere risparmiare, come si dice? Per salvare l'energia, per non lasciare la luce aperta, per riuscire la televisione e non solo... Non saprei come dire però, con il telecomando... No, no, se vuoi cambiare il canale... Non lasciare la televisione nel stand-by, ma per riuscire.